Comincia dalla numero 1, Vanessa Cocciolo Uscita in abito sportivo per le nostre 13 miss Vanessa Cocciolo, la numero 1, Giulia E' nel numero... E' nel numero 2, Bronta Egli Bertone Applauso Eccola che arriva alla numero 3, con il 3 a rovescio E' nel numero 3, non fa niente La numero 3, Luissiana Surace Riva da numero 4, Devo Rapprimerano Passarella, per la numero 5, spero di azzeccare il cognome, Elena Yannarella Iannarella 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 Lei era un po' emozionata dietro e mi diceva No, scherza un po', scherza, non ti faccio vedere io che ho un po' scherzo E' me La numero 6, Natascia Tassone Dopo la 6, la numero 7, Francesca Pisano Passarella Passarella, per la numero 7, Francesca Pisano E' la numero 8, Rosy Primerano E' la numero 8, Rosy Primerano Grazie, la numero 8, la numero 9, Marta Cutelle Numero 9, per la prima edizione di Miss Soriniana Calabro Numero 9, Marta Cutelle E' la numero 10, Luana Loiello La numero 10, Luana Loiello Passarella, per la numero 11, Enza Ciconte Numero 11, Enza Ciconte E' la volta della numero 12, Francesca Cocciolo La numero 12, Francesca Cocciolo Your love is what I prefer, what I deserve If I'm in that make me the taste of Arriva la numero 13, Enza Battaglia Enza Battaglia, la numero 13 questa era la seconda uscita delle nostre Miss per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo Giulia, tutto bene? Lei ha avuto il tempo